Ben tornati e ben trovati, il vostro sogno è trovato, siamo nell'LGC di maggio Scusatemi se ho la voce strana o cose così, sto registrando in piena mattina E stamattina sto stranamente colpite di dosso in continuazione in gola Forse perché sono uscito e sto passando vicino a un prato e quindi mi si è attivato la LGC Allora, dopo un bel casino, ho dovuto riscaricare tutto il gioco praticamente Abbiamo di nuovo, abbiamo le update Vabbè con il crossover di viscio gioco che sono abbastanza discutibili alcune di queste skin Non di concept ma di aspetto, vabbè quella è la grafica Forse è la grafica della console che non va Scusatemi, ripeto, non lo so, sono sti colpitosi Allora, avete fatto il vostro voto, avete aspettato abbastanza È il momento di portarvi l'LGC di questo mese, ovvero Lamia Cominciamo con un po' di background di questo personaggio Che cos'è una Lamia? Una Lamia della mitologia greca È un mostro dalle sempianze di donna e il serpente messo Simile alla Gorgone ma allo stesso tempo non come la Gorgone La Gorgone ce ne sono solo tre, tecnicamente Perché dico tre quando si conosce solo Medusa Perché se ce ne sono letteralmente solo tre, veramente solo tre Medusa e le sue sorelle Tecnicamente le qualcuno chiamate le sorelle Gorgoni Non lo so, è un casino Se andate pure ancora più indietro sotto, fuori Alla mitologia greca potete pensi non trovare forse che le Medusa in realtà era una Prima di diventare un mostro era una divinità della terra Una cosa del genere Non lo so Allora cos'è quindi? È un mostro serpente della mitologia greca Ma che cos'è realmente una Lamia? In realtà la concetto non è che cos'è ma chi era In realtà al di fuori rispetto a Manticora La Manticora che Airetz gli si è inventata una strozzata Ripeto Lamia era in realtà un personaggio vero e proprio della mitologia greca Esisteva un individuo con questo nome La regina Lamia Era una regina della Grecia Della Persia se non sbaglio Non ricordo Non me lo so perso, non me lo so scritto Non me lo so trovato Che praticamente Zeus aveva dato il dono di levarsi gli occhi dalle orbite e poi rimetterseli Ok Era talmente bella che come al solito Zeus I pantaloni non se li attuni addosso Quindi come al solito Ha avuto qualche figlio da lei Ed era tanto per cambiare Perché invece di punire suo marito Ha punito la povera ragazza La povera donna Che poi vabbè Fino a una certa perché No, non lo so Non si sa raga Però comunque è colpa sempre di Zeus secondo me Degli dè Sempre colpa delle divinità Ha punito la donna Facendo o in alcune versioni Morire i suoi figli Facendo uccidere i suoi figli Da non so cosa Oppure in un'altra versione Far uccidere i suoi figli Dalla mia stessa Facendo i suoi figli divorare E lei Impresa al dolore Impresa alla rabbia Impresa a tutto Ha cominciato a uccidere Vari donne Vari bambini di altre donne Di altre madri E si è man mano Trasformata in questo mostro Ok Parliamo un attimo Del concetto di Lamia Ok Lamia La Lamia è Come ho detto Una donna Mezza serpente Mezza donna Col corpo da donna Col Come si può dire Da testa L'addome Basta addome Quasi Di umano E da donna E le gambe da serpente Quindi la coda da serpente Ha così Mira la corvo Ripeto Però non c'ha Capilli da serpente Non c'ha Poteri da 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 Quella cosa della purificazione Si può spiegare scientificamente Scientificamente in realtà Ah Sono state spesso Le Lamia sono state spesso Connotate anche con Le streghe Lamia letteralmente Vuol dire anche strega In un'altra maniera Per dire strega Praticamente Un Vezzeggiativo Delle strega Non mi ricordo Come si dice Vezzeggiativo Alte cose Gli danno Quindi poteri Magici Simili alle streghe Gli danno anche Una connotazione Di vampiro Molte persone Dicono che Assorbivano il sangue Delle prete Delle Delle vittime Cose così A sedare di sangue Quindi gli danno Delle connotazioni Da vampiro Per questo Forse si sono aspirati A questo Per in Petrify Ma non credo Comunque Sono così intelligenti Secondo me In quell'azienda ormai E Gli hanno dato Qualche Un qualche tipo Di potere Diciamo ipnotico Simil sirena Ovvero che Seduce la La pareta Che poi Assorbire nel sangue Quindi abbiamo 4 5 Diciamo Cose possibili Caratteristiche possibili Di trasformare in un kit Abbiamo Donna serpente Il fattore degli occhi Il fattore che è una strega Il fattore che è un vampiro E un fattore che è una sirena Anche se Quindi ho pensato letteralmente A cosa volevo Che innanzitutto ho cominciato a pensare Cosa volevo fare di questo personaggio Innanzitutto ho pensato alla classe E siccome c'è il fattore di strega Ho pensato subito a un personaggio Ma dicevo Da fare guardian o mago Ho pensato a fare mago Primo perché sono Tecnicamente Potevo inserire più variabili all'interno di esso Perché posso sempre dare un effetto aggiuntivo A un'abilità E non farla troppo pecessiva Per essere un guardian E secondo Volevo fare un bel controllo Un bel personaggio Che poteva controllare facilmente il campo di battaglia Il mago che ho creato Con la regina lame che ho creato È diciamo Un misto tra un Controller Barra Direttore delle fight Diciamo più o meno Cioè quel momento in cui tu hai Questa finestra di combattimento qui E tu farai Fare sì che il nemico ti combatta Ai tuoi termini Diciamo una cosa leggere Cominciamo con la passiva Ho deciso di dargli una passiva basata sul sangue Questa cosa dei vampiri Però non a livello di vampiro Vampiro nel senso che A parte che Come in molti giochi Ora come adesso C'hanno la paura Il terrore di mettere il sangue E di far vedere Emozioni Lacrime Sangue Quelle cose là Non le fanno più vedere ragazzi Veramente Cioè O vai a vedere Peggi 18 Cose così Oppure non faranno vedere Neanche una goccia di sangue Ho deciso di lavorare sul sangue Ma non a livello di vampiro Ma a livello di Emomante Cos'è un emomante? Nella cultura moderna Fantasy Pop moderna Un emomante Un mago che praticamente utilizza il sangue Guardate Vladimir Di Gof Legend È un esempio molto facile In parte Volevo ispirarmi a lui Poi ho detto No vabbè Non ispiriamoci del tutto A lui Diamogli qualcosa di misto Gli ho dato capacità magica Capacità sul sangue Capacità diciamo Territoriali Diciamo Una cosa del genere Passiva La sua passiva funziona così Ogni nemico che lei uccide Guadagna Un tot di sangue Non l'ho specificato Proprio di specifico Che quanto sangue Avevo pensato A una passiva Simile carica Come tu Come molte Che A 25 cariche C'è il massimo E si attiva qualcosa Si ottiene più sangue Ovviamente Da God Ogni 25 di sangue Praticamente In realtà 25 sarebbe il massimo 25 di sangue La prossima abilità Che lancerà Ci avrà un effetto Aggiuntivo Ogni Aggiuntivamente Gli ho deciso di Siccome 25 Ho pensato Ok 25 Anche se ti metti A prendere 25 Su minion 25 minion So Cazzo Saranno 5 ondate Nemmeno 5 6 5 4 5 ondate E dai una rottura Dei palle Aspettare quello Per avere C'è la passiva Poi vabbè Magari prendi i mostri Te la giungla C'è pure sta Però Ho pensato Magari una rottura De scatole In combattimento Non ti puoi Andare a sperare Di beccare un assist E cose così Un assist Per esempio Valerebbe metà Dei punti Che farebbe normalmente Ho pensato Vabbè Magari Famogli Qualcos'altro Ho deciso di dargli Che ogni 7 secondi Il suo prossimo Attacco base Praticamente Infliggerà un bleed Ovvero un sanguinamento All'avversario Che prenderà Leggermente Dane Ma proprio Leggeri E rigenererà Nel tempo Sangue Per Per Lamia Si tratta Di un sanguinamento Di pochissimo E anche Rigenerazione Del sangue Pochissimo Però Non a livello Di Ok Lui ho fritto Questo Adesso Prendo una marea Però Io ho deciso Di dare Anche un altro Effetto Questo effetto Diciamo L'ho aggiunto Soltanto Pensando Finché Siamo in Questa Stipo Di stagione Nel senso Che Siamo in Una stagione Dove Il Mid O meglio Il Mago Non si Prende Si prende Solo Il rosso E non Il blu Come ai tempi Antichi Di smite Dove il blu Era vicino A mid lane E il blu Si veniva preso Dai mid Il rosso Dai jungler O era Degli hunter Non mi ricordo C'era il viola Che era No Il viola veniva preso Degli hunter Il rosso veniva preso Dal jungler O dal solo Non mi ricordo Mi pare dal solo E c'era Il Poi c'era Il Vabbè C'era C'era L'argentato Che era Quello dei cooldown Non mi ricordo Che cos'era Mi pare Quella della protezione Non mi ricordo Però ho pensato Ok Se non Non c'era Possibilità Che ci rimettano Il blu Vicino Ho detto Va bisogno Di un po' Di mp5 Perché Se gli diamo La possibilità Di consumare Tanto mana Di recuperare Abbastanza Perché non Dargli una cosa Del genere Ho deciso Che quando c'è L'attivazione Del bleed Del sanguinamento Tramite questa passiva Lei guadagna Leggermente Un po' Di mp5 Durante questo bleed Ripeto Il sanguinamento Non dura Penso di farlo durare Se potessi dire Un numero 4 secondi Cioè 4 secondi Di mp5 Ha aumentato Sembrano pochi Ma se L'mp5 È abbastanza alto Potrebbe rigenere Abbastanza Però Diciamo È una cosa così Passiamo All'abilità Allora Prima abilità Immediatamente È uno skillshot Di linea retta Un proiettile Di linea retta Lo so Molto semplice Forse troppo semplice Però ovviamente Ci ho messo una gimmick Per far sì che Non è un semplice Proiettile Che rallenta Allora Passa attraverso Tutti i minion Mi fa danno I minion A prima cosa Colpisce E li rallenta E rallenta Se colpisce però La gimmick è questa Se Nella linea In cui Il proiettile passa Colpisce Due god Insieme Il secondo god Che colpisce O un muro Scusate Colpisce anche un muro Il secondo god Che se viene colpito Con il secondo god Al di fuori del primo Il proiettile Si fermerà Fermerà sul posto Il secondo god Quindi infiggerà Root E incatenerà Il Terzo Il primo god Colpito Il primo god Al secondo Facendosi Utilizzare un effetto Pendolo Simile Alla ulti di Persephone Se ci avete presente Che la ulti di Persephone Si ferma al primo god Nemico E incatena tutti gli altri All'altro A questa trappola Finchè non rompi la trappola Questi non si scappa Ho pensato Una cosa simile La stessa cosa Avviene nel muro Però con un bersaglio Singolo Quindi dovevi fare Che praticamente Il colpo Passi attraverso Il primo bersaglio E si fermi al muro Se colpisce il muro Lo incatena al muro E l'unica maniera Per scappare In quella maniera È bidare Ora ho pensato A fare questo effetto Per fare sì In una cosa semplice Quante volte In una fight Vi è capitato Che un support Si è messo davanti Al bago Al mid Al suo carry E facendosi Da body bloccarlo Eccetera eccetera Perché non dargli Un effetto del tipo Ti metti davanti Al tuo coso Per bloccarlo E io lo fermo Sul posto Insieme a te Così Ti punisco Del fatto Del tuo posizionamento Ovviamente Ci sono due maniere Per scappare da questa cosa Primo Il secondo god Quello che fermo Sul posto Utilizza un bid In effetto di immunità In effetto di controllo E l'annulla Salvando entrambi Quindi Lì è il carry Se vuole salvarsi entrambi Secondo Se quello incatenato Utilizza un bid Si stacca Dall'avversario Dall'alleato Però L'avversario Quello fermo sul posto Rimane Da solo È una Da una scelta A quello che si fa Ovviamente Non ho avuto Inserirci un creep Per farsi Provo questa cosa Nel senso Devi sprecare Una cosa di movimento Ed è un effetto Che succede sempre Quindi Devi stare attento A tuo posizionamento A non stare vicino Troppo ai muri E soprattutto A darti una scelta Se utilizzare Effetti di movimento E cose così Prima ancora Che tu Prima che Subisca tutto il resto L'effetto della passiva Ovvero del potenziamento Ho deciso di dargli Semplicemente Un effetto Aggiuntivo Un bersaglio aggiuntivo Può funzionare Questa cosa Del bersaglio aggiuntivo Sì Perché è sempre La stessa cosa Di Persevano Però tuttavia Se ad esempio Io riuscissi a prendere Tre bersagli Se ci sono Tre bersagli In raggi orazione Di questa cosa In linea retta Ho sempre pensato Di incatenarli Sempre al secondo Praticamente Al secondo bersaglio Che viene colpito Però sto pensando Di cambiarlo Del tipo Se c'è stato un terzo Personaggio Nell'aria Viene incatenato Istantaneamente Subisce Dei leggeri danni E viene incatenato Praticamente Sempre al secondo Perché altrimenti Diciamo che colpire Tre bersagli In linea retta A meno che non sei Un enorme In uno stretto Corritorio Della giungla È difficile Però Potrebbe funzionare Ripeto Quindi stiamo ancora Sul Ripeto ragazzi Questo è un kit Fatto a me A caso Totalmente pensato In dieci giorni Quindi potrebbero esserci Dei me In alcune punte Seconda abilità Allora Fattore strega Sempre parlando Di strega Eccetera eccetera Ho pensato Alla prima cosa Più semplice Parliamo di sangue Parliamo di strega Ho pensato subito Ok Ciccolo magico Ho pensato A un cerchio magico Fatto col sangue E così così E ho pensato Ma perché non dargli Un'abilità a carica Che è una trappola Ho pensato A dei cerchi La capacità di Creare dei cerchi magici Simili Trappola Di Artemis Che però Possono essere attivati Anche dei minion Nel senso Crea questi cerchi magici Praticamente Per terra E chiunque ci passi sopra Che sia nemico Quindi minion O non Li attiva Esplodono questi cerchi Praticamente lanciando Facendo un danno Ad aria del cerchio Infliggono un burn Quindi un Danno nel tempo Perché stavo usando Tipo Come era Che avevo deciso Di chiamarlo Sangue Che ribole Una cosa del genere L'odio del sangue Eccetera eccetera Infligge dei danni extra Ovviamente ai minion E cose così Per dargli del clear Perché altrimenti Non avrebbe clear Con questo kit Che ho fatto Se però C'è il potenziamento Come ho già detto A carica E si possono avere Fino a tre Di queste cose Non uno sopra l'altro Ma in una posizione decente Perché per esempio Le trappole di Artemis Non si possono mettere Una sopra l'altra Ma si possono mettere Tipo Poi coprire Un'intera entrata Della torre O poi comprire Un'intera entrata Dalla lane Quindi ho deciso Ok Tre trappole Con sta possibilità Di metterle In posizioni specifiche Da coprire La schiena Far si che il nemico Subisca questa cosa Però se c'hai L'effetto della passiva Ovvero Il totte De sangue Quando questa Un god nemico Ci passa sopra Inflige un charm Cos'è un charm? È una cosa Che non esiste In questo gioco E non capisco Perché ancora non esista Però tecnicamente Le esiste Diciamo La 2 di Sir Cat Vi deve venire in mente Se non avete presente La 2 di Sir Cat Cobra Kiss Che semplicemente Se colpisce Un bersaglio singolo Un bersaglio O due bersagli differenti Quell'abilità C'ha due effetti Diversi Se colpisce Due bersagli differenti Quei due bersagli Verranno Si Verranno provocati Uno contro l'altro E si combatteranno A vicenda Per quel tempo Di controllo Se colpisce Il bersaglio singolo Invece Il bersaglio singolo Verrà tirato Verso Sir Cat In realtà L'effetto di controllo Si chiama Mesmerize E non charm Ma alla fine Della fiera È un charm Quindi hanno deciso Di inserire Taunt Charm Mesmer Charm Sonno E cose così In Mesmerize Come effetto Perché se no Sarebbe stato Troppo difficile Aggiungerci Tutti i vari Vari nomi Eccetera Eccetera Un po' Una stronzata Secondo me Però Ho pensato Volevo fare un progetto Che faceva Charm Ho detto No vabbè Se lo panchi Poi c'è l'unico effetto Di controllo Che c'è Dopo quello Te saluta Allora Come funziona Come funziona Il charm Ovviamente Te giri Verso Lamia E vai Verso Lamia In controllato Così funziona Come potrebbe essere usato Stabilità Il jungle Le metti uno Dentro Vicino alla giungla Il jungle Sta a fare uno contro uno La sta a perdere Se riesce a raggiungere Sto cerchio Quello gli salta addosso Dentro al cerchio Esplode L'infigen charm E si trova un attimo Rallentato Da sto coso E magari c'è il tempo Il tuo avversario Alleato Oppure ripeto Te lo metti per terra Nel momento stesso In cui uno Ti salta addosso Stai sul cerchio Il cerchio lo blocca Temporaneamente Se usa un beat E cose così Deve sprecare risorse Per piatte Insomma Gli dai delle scelte O sprechi roba O lasci stare È così Voglio controllo Voglio fare Voglio fare questa cosa Terza abilità Immediatamente ho pensato Ok Abbiamo due abilità Che fanno danno Di controllo Ho bisogno di Mobilità Non voglio assolutamente Fare un personaggio Che non ha mobilità Perché assolutamente Non saprei come distrillo E ho pensato Ok Diamo gli uno scatto Simil Medusa Ovvero Scatto con la serpente Che fa danno Passa attraverso i nemici I minion E si ferma Il primo god Ora Ecco il punto debole Dello scatto di Medusa Si ferma il primo god nemico E lo ferma sul posto E gli fa danno Si Però si ferma il primo god nemico Quindi se tu La body blocchi Mentre cerca di scappare Con lo scatto Lei è fregata Perché non ha altri effetti Di controllo E ho pensato Ok non posso dargli un effetto Però non posso fargli Letteralmente lo stesso Lo stesso scatto Perché altrimenti Sarebbe una strunzata E quindi Io ho detto Ok Vogliamo dargli una scelta Damogli una scelta All'avversario Se body bloccarti Oppure no Nel senso Se ti body blocca Oppure se Tu becchi Un avversario Un god nemico Con questo scatto Tu Lo fermi sul posto Lo silenzi E questo silenzio In realtà È Questo silence È un po' particolare Adesso lo spiego Veramente Si avviluppa il nemico Gli infligge danno Gli assorbe In realtà Non so se fargli Un regen di salute Mentre c'ha sto nemico Avviluppato Perché praticamente Gli si attorciglia Come un boa Praticamente Gli assorbe Salute Per sangue Per la passiva Praticamente Non so se dargli una cura Ripeto Il silence È più che altro Il fattore di Non puoi fare un cazzo Perché sei fermo Capisci? Non puoi fare niente C'è un silence addosso Non puoi fare niente Non Non è che In realtà Più che un silence È un silence Più un disarma Perché molto spesso Chi Le abilità che infliggono Un silence Ti danno la possibilità Di usare Gli attacchi base Il disarma Invece È l'altro L'altro tipo Di silence Diciamo come Ti toglie gli attacchi base Ma puoi usare le abilità Capisci? Non c'è un effetto Che toglie entrambi Ma ti fa muovere Quindi ho detto Ok Gli do un silence Ma tecnicamente Non può fare niente In quel momento Non può fare niente Subisci danno E poi Dopo aver assorbito La vita Del avversario Lo lanci In direzione In cui guardi Mi sono ispirato Alla ulti di Serket Dove tu puoi lanciare Letteralmente il bersaglio Dove ti pare In base a dove stai guardando Ho pensato Ok Se questi ti body bloccano Tu li avviluppi Gli fai danno Li silenzi E poi li lanci In maniera da Ok Ti sei messo davanti a me Per non farmi scappare sotto la torre Te le lancio sotto la torre E se magari Esci anche Infliggi Magari che ne so Con il drain Mentre assorbi la sua vita Prendi l'abbastanza passiva Gli infliggi un charm Sotto la cosa Sotto la torre E tra parentesi Il charm Il mesmerize Tecnicamente Conta anche con Un leggero slow Se ne avete Cato caso Quando venite Infittati Da questi Effetti di controllo Siete leggermente Più lenti Perché Non controllate Tutto il personaggio C'è un effetto aggiuntivo Con la passiva Ovviamente Qual è l'effetto aggiuntivo Di questa passiva E' che Quando tu lanci Il bersaglio Se Ci sono dei nemici davanti Mentre lo stai lanciando Quei nemici Vengono praticamente Scagliati via Ma Più che scagliati via Vengono Diciamo Spostati ai lati E' una specie per dire Ok Prendo l'avversario Come nel momento In cui fai una rissa Contro Diverse persone Prendi L'avversario Il primo avversario Che ti trovi Il lanci Addosso Il lancio addosso All'altra Agli altri avversari Per aprirti la strada Ecco una cosa simile Così da dire Ok Mi hai bloccato Però Non crevi Si Non ti posso spostare Non posso sopravvivere A meno che Non faccia qualcos'altro Gli avversari Sua Gli altri alleati Dell'avversario Ti vengono addosso Ti giri Gli lanci contro E tecnicamente Vengono un attimo più L'arrentato In maniera che tu ti puoi Diciamo Puoi fare un self Feel Da far si Ok Adesso c'ho il support Che mi sta a venire subito C'ho già il support Che sto là Ne cose del genere Per guadagnare tempo Ne cose del genere Parliamo della ulti Ok Abbiamo usato il sangue Abbiamo usato la magia Abbiamo usato La potere In parte dei sireni Abbiamo usato Il potere dei serpente Era il momento degli occhi Non avevo idea Di che cosa fare Con questa storia degli occhi È una parte importante Della lore Non proprio Cioè È semplicemente Una cosa che può fare Togliersi gli occhi Dalle orbite Per utilizzare Per non vedere E ovviamente Non è che si può fare Un smite Ho pensato Che faccio Vi faccio Sì Se toglie gli occhi Dalle orbite Non ci vede più Cioè Se infligge un blind Da sola Ma che cos'è È una stronzata Ho pensato Anche un'abilità Simile A un drone Nel senso Che Utilizza una cosa Simile agli occhi Lei si ferma sul posto Usa i suoi occhi Lanciandoli tipo In area così Tipo drone E che ne so Inflige un marchio Una cosa del genere A un avversario Che vede Cos'è così Un po' come La spada di Eindal Però Ho pensato Vabbè ma sarebbe Una stronzata In combattimento Cioè Ci sono C'è già la spada Di Eindal Che può fare Visione Senza Dover Senza dover Essere per forza Dentro l'aria Senza dentro E poi va Anche danno La spada di Eindal Invece di fare Una semplice passiva Quindi dice Mark Quindi ho detto Facci una cosa del genere E in quel momento Stavo guardando Fate Tra l'altro Ho iniziato a usare Netflix Perché ho deciso Che Realmente sta tv che c'ho Una tv che c'ho Ho deciso di usare Netflix Cioè tra l'altro Ci sono 4 film di Fate E Fate Apocrifia Io stavo In quel momento Ho cominciato a urlare Tante cose Ho pensato Aspetta un attimo C'è un personaggio Specifico Che è uno dei miei preferiti Forse il mio preferito Non lo so Di Fate Che è Medusa Letteralmente In quell'anime Barra universo narrativo Di manga Anime In vivo joy C'è un'abilità Chiamata Bloodfort Andromeda Che è praticamente Possiamo descriverlo Come una gigantesca barriera Che chiunque Gli sia dentro Che è creata col sangue Di Medusa Così giri di sangue Di Medusa E qualunque persona Ci sia dentro Viene Qualunque sia sia essere Che ci sia dentro Che non superi Una diciamo Cosa sulla resistenza magica Che non abbastanza resistenza magica Viene annientato Letteralmente Tano Snap Non so se Tano Snap O viene tipo Se scioglie il sangue Non lo so E poi viene usato Praticamente Per potenziare la barriera Però è una cosa del genere Ho pensato Aspetta un attimo Perché il simbolo principale Di Medusa È l'occhio Perché c'ha Molte cose sull'occhio Medusa Sul fatto che gli occhi Ho pensato Aspetta un attimo Posso utilizzare una cosa simile Ho pensato A una cosa così Ho pensato A una gigantesca Vabbè Copre magari Tutto Fargiant Una cosa del genere Mezza lane Cioè una bella parte Cioè una bella parte della lane Praticamente copre Però non tutta la mappa Pensate a una way Che praticamente È un gigantesco Occhio De Sauno Stile Una cosa del genere Che chiunque Stia all'interno Di questa cosa Subisce Le determinati effetti Se viene colpito Da un'abilità Di lamia O anche da un attacco Base di lamia Penso Alla fine della fiera Se di lamia Gli fa danno A quell'avversario Gli infligge un malus Questo malus Gli fa ridurre La protezione magica Perché ho detto Solo magica Perché magica Perché ho preferito Fare solo magica Per evitare Situazioni in cui Ok Ci abbiamo un sacco Di personaggi Tipo C'è un marticoras Come carry Ed è un'alta Riduzione Alla protezione fisica Quindi se facessi Una protezione mista Sarebbe un problema Certo dire Se vabbè Allora mi posso proteggere Con questa difesa magica Sì Ma il problema È che è in percentuale Quindi più difesa magica C'hai Peggio più che te E ovviamente Questa cosa Può funzionare Diciamo anche Sui Sui avversari Sui nostri Ho deciso Anche sui nostri Come funziona Questo malus Gli infligge una riduzione Sulla protezione magica E non si può Biddare Non si può togliere A meno che Tu non esci Dall'oe Ripeto L'oe non è grande Sarebbe quanto La pozza del fire giant Quindi È proprio per fare Delle siege Barra Situazioni in cui Devi combattere Sul mio territorio Non sul tuo territorio Quindi Ho pensato Una cosa così Si può togliere Solo se si esce Dal campo Dalla zona Dura 3 secondi Fuori dalla zona Praticamente Quindi è una cosa Del tipo La tua scelta è Combattere O dentro la cosa Rinunciare all'obiettivo Oppure uscire E toglierti Questo effetto di controllo E magari perde l'obiettivo E magari la fight Più I nemici con il malus Danno sangue Se colpiti Dentro l'oe Quindi è una cosa Per accumulare più velocemente La passiva Sto pensando Questo effetto aggiuntivo Sto pensando O di toglierlo O di settarlo Del tipo Che non posso Rigenerare Tanto sangue Dopo averlo usato Il massimo Ma in realtà Ho deciso di dargli Anche una cosa Aggiuntiva Nel senso Di non far sì Che praticamente Questo effetto Di malus Si può applicare Solo una volta Per nemico Praticamente Per attivazioni Di ulti Praticamente Quindi Non è così OP come sembra Devi essere bravo A colpire nemici Devi essere bravo A colpire In una zona Devi avere anche Un team Che magari Riesce a tenerteli Dentro la zona Capito Quindi ho pensato A questo malus Subiscono Danno sangue Al secondo Se colpite Nella OE Durante Sempre da l'amio Questa cosa Colpite nella OE Durante La fight Durante La prima attivazione Si può attivare Una volta solo Per nemico Per attivazione Della booty E se Ha l'abilità Al massimo Cioè la passiva Al massimo Questo malus Darà anche Un malus Di riduzione Di power E qui ho pensato A power fisso A power misto Perché power Si può fare Power misto Riduzione di Difesa Difesa Specifica Si può fare Mista Non si può fare Perché ripeto Avanterebbe tutte le cose Io voglio che Avvantaggi specialmente L'amia Per dargli una chance In qualche maniera Quindi questa era La passiva Questa era Tutto il kit Di l'amia Non so se avete capito La mia scelta Quello che volevo fare Era un controllo Che ti mette Di determinate condizioni E tu devi superare Queste condizioni Se vuoi Vuoi rischiare Rischi Altrimenti ti becchi Tutto il suo odio Che ha Verso le divinità E niente Fatemi sapere la vostra Vi ricordo di cliccare I video Commentate In sotto Il sinale Sono disposto A rispondere Se non avete capito qualcosa Ci vediamo Con FGC Il Primo Giugno E sto avendo Già difficoltà A decidere Chi mettere Perché sto cercando Di fare Pantheon Per Pantheon Ovvero Non fare Cose miste Ma andrà a finire Che farò sicuramente Liste miste Per la prossima votazione Ci sarà il primo giugno E niente Ci vediamo Prossimie ragazzi Vi ricordo Di scaricare il canale Vi ricordo Un gamepad Alla mano Si può cambiare il mondo Bye bye